Sergente, è appena arrivato un comunicato che ci informa che i ribelli si stanno avvicinando a noi. Ordini. Eravamo una grande nazione un tempo. Tutto distrutto adesso. Non resta niente di ciò che eravamo. Devo riferire qualcosa agli uomini? Sì, che l'alba di una nuova era appena giunta. Ma tu non eri sposato? Sì. Lo ero. Ma niente dura per sempre. Qui è da dove vengo io. E qui è dove andremo. Quando tutto questo finirà. Quando staremo là fuori, cerchiamo di restare uniti. Niente atti di eroismo. Pensi che quello ti aiuterà? Noi siamo dei disertori. Disertori vuol dire incriminare. Se ci prendessero come tali ci trattano. Tu sai cosa fanno i disertori in tempo di guerra? Sì. È un piccolo paesino della costa. Ci muoviamo solo di notte. Eric! A combattere i migliatti! Lasciatemi tu! Basta! lasciatemi chavano. Non è così. Speriamo. Il mio gravissimo, sta perdendo un'altra parte. Spostami bene. Tu ce la farai. Tu ce la fai, capito? Dottore, venga subito! Volevo aiutarti. L'ha visto ferito. È un suo amico. Ci sono riuscito. Sì. Come vedi, qua ci arrangiamo da soli. Dottore, ho capito. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Non ti chiami. Vieni. Pia. Vedi? Vedi, mentre tutti noi, Antonia, Dario, io... Ditemi i vostri nomi, soldati. Cercavamo solo di... Tania! Di sopravvivere. Giorno per giorno. Io ero... Io ero sempre creduto di poter... Di poter tornare a casa. E chissà... Forse... Forse c'è davvero riuscito. E chissà... E chissà... E chissà... E chissà... Grazie a tutti.